Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ben ritrovati nuovamente qua nel disordine solito, classico, usuale, consueto della mia libreria. Allora, allora, faccio questo video per rispondere ad una domanda molto simpatica che mi è stata fatta qualche giorno fa ma a cui posso rispondere soltanto adesso. Mi è stato chiesto, ma Mike, sappiamo che ti piace il MiG-3, sappiamo che hai una grande emigrazione per il Mustang e per lo Spitfire, eccetera, 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 ma mi hanno chiesto quale sarebbe l'aereo sul quale io vorrei combattere. Beh, penso che prenderò di sorpresa molti. Per quanto che il MiG-3 sia il mio aereo preferito, per quanto che io consideri il Regiane 2005 uno degli aerei più eleganti della storia della seconda guerra mondiale, per quanto che mi piacciono gli Spitfire, per quanto che mi piacciono i Focke-Wolf 190, io devo dirvi la verità, se proprio dovessi scegliere un aereo su cui combattere, beh, sorprenderò molti, ma se io dovessi scegliere un aereo su cui combattere, io combatterei volentieri su questo qua. Ebbene sì, 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 grosso, squadrato, pesante, massiccio, non propriamente elegante, lo, il Grumman F6F Hellcat. Perché? Detta semplicemente come, quando uno va in guerra, va a volare su un aereo da caccia, che cosa vuole sotto il culo? Vuole un aereo affidabile, potente, che spari bene e che gli consenta di portare la pelle a casa. E sinceramente, il Grumman F6F Hellcat, eccone qua un altro esemplare volante, sempre da Legendary Warbirds di Luigino Cagliaro, lo Hellcat aveva tutte queste caratteristiche. Poi, diciamoci anche la verità, in appontaggio, visto che operava dal ponte delle porta aerei, in appontaggio era decisamente molto più benevolo e molto meglio riuscito del Corsair, perché, ricordiamoci, le prime versioni del Corsair, quelle con il cosiddetto tettuccio Birdcage, erano assolutamente improponibili, perché avevano un comportamento all'atterraggio veramente, veramente tremendo. E non c'è altro da dire. E lo Hellcat, con il suo armamento, insomma, con il suo armamento di semi-tragliatrici calibro 50, con il suo motore da 2000 cavalli, con la sua velocità, con la sua manovrabilità, con la sua robustezza, è, secondo me, la migliore scelta che si poteva fare per combattere. E oltretutto, era un aereo che garantiva anche, ripeto, una grande sicurezza ai piloti, perché era robustissimo, e soprattutto perdonava molti errori, cosa che aerei come, per esempio, il Mustang, come, per esempio, anche lo Spitfire, era come, per esempio, anche, per dire, insomma, altri aerei non erano così benevoli nei confronti dei piloti, non perdonavano così gli errori. Quindi, ripeto, cari signori, se proprio io dovessi scegliere un aereo sul quale combattere, la risposta è quella che vi ho detto probabilmente un po' a sorpresa, ovvero sia questo, lo F6F, il Grumman Hellcat, che fu inubbiamente uno dei migliori caccia della Seconda Guerra Mondiale. E poi, se proprio dovessi scegliere un secondo, beh, insomma, lui, lo Yakovlev, Yak-9, uno dei migliori puro sangue della Voyenne Vosnusnesili, che, ricordiamoci, era vietato ai piloti tedeschi affrontarli sotto una certa quota. Quindi, cari signori, io ho svelato uno dei miei piccoli segreti personali, come sempre, aspetto le vostre considerazioni e i vostri commenti, e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!